Ciao, 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 un saluto a tutti, come state? Ben ritrovati? Di nuovo una domenica, vi invito come sempre a commentare numerosi qui sotto, lasciare un bel like, iscrivetevi qui, attivate la campanella, mi raccomando, numerosissime, arriviamo presto a 30.000 iscritti, dai ragazzi! Allora, una cosa incredibile, non so quante volte sia successa, allora, episodi arbitrali ieri, no? Abbiamo visto tutti, per quanto mi riguarda il rosso Renders non c'è proprio, Renders fa di tutto per non prendere l'avversario, l'avversario li taglia la strada, cerca l'impatto che comunque è leggerissimo, quindi Renders non andava espulso, partita condizionata, e Renders salterà la prossima gara, tra l'altro, dove? A Bologna, dedicata, un centrocampo che comunque non ha tantissime alternative, ma la gestione dei cartellini, allora, pensate, vi dico una cosa incredibile, il Milan ha commesso, allora, hanno aggiornato, perché ieri c'era scritto due falli, adesso hanno scritto tre falli, la Lega Calcio Serie A, tre falli, due gialli, il Milan fa tre falli, tre, prende due gialli e un rosso, due gialli e un rosso, ieri c'era scritto due falli, adesso hanno aggiornato tre, l'Udinese fa quattordici falli, quindi cinque volte tanto, e prende appena tre gialli, hanno corretto, perché ieri erano due falli, è una cosa incredibile, cioè, quanti gialli mancavano ieri, il giocatore d'Udinese? E su cinque se non era rosso? Se non era rosso, quantomeno era giallo! Ecco, Kifi, una arbitrazione mia da una vita, ecco, speriamo che passi anche un'altra vita, perché è stato disastroso, segnalo che, nelle ultime gare, espulso ieri, appunto, secondo me, giustamente, Reinders, al trentesimo, nell'ultima gara, espulso Teo Hernández per proteste, ha sbagliato lui, nella gara prima, Bartesaghi, poi, viene espulso, che, a detta dell'AIA, non era da espellere, quindi, ragazzi, no good, ma ieri, in particolare, l'aggressione di Kifi è stata scandalosa. Ultime che ne pensate, commentate numerosi, lasciate un bel like, iscrivetevi qui. Grazie, un saluto, a dopo.